Innanzitutto migliorare la posizione di classifica che abbiamo, perché alla fine parliamoci chiaro, come ha sempre detto il mister, ci fa giocare per vincere. Quindi gli obiettivi sono continuare con questo trend positivo e cercare di migliorare tutte le prestazioni da qui a fine anno. Questa squadra secondo te può avere un limite? Può fissarsi da solo un limite? Noi, come ho detto pochi mesi fa, abbiamo molti limiti, quindi i limiti vanno migliorati e non finiranno mai di esserci. Quindi almeno io personalmente voglio sempre migliorarmi e fino a quando giocherò spero di colmare questi limiti che ho.